Vinitaly 2023 con Elio Bonollo parliamo di una storia di riscoperta con un marchio come Ballor che state lanciando qui in fiera. Sì, Ballor debutta al Vinitaly 2023 con una storia ricchissima perché partiamo nel 1856 quando nasce questa meravigliosa azienda il cui brand abbiamo acquisito noi negli ultimi anni e che aveva una storia caratterizzata da un entusiasmo e una capacità di impresa incredibile. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e Henry, Emily e Paul, tre amici, si mettono insieme e creano questa fantastica azienda che cerca di fare e di creare prodotti innovativi e particolarissimi. Siamo nei tempi della nascita del Vermouth, in particolare Paul Ballor era attratto dalle caratteristiche di questo fantastico aperitivo e quindi la volontà di arricchirlo, di cercare di superarsi a livello qualitativo ha permesso a lui e a tutta l'azienda di conquistare non solo i mercati italiani ma già loro i mercati internazionali. A inizio del Novecento erano già fornitori ufficiali della Casa Savoia e avevano già partecipato ad oltre nove esposizioni internazionali con medaglie d'oro. Erano conosciuti per il valore e le caratteristiche sensoriali di questi prodotti, in particolare il Vermouth, il Vermouth Ballor nel 1908, era già in un libro di ricette a New York e quindi questo ci ha inorgoglito e ci ha spinto proprio a ricreare con lo stesso entusiasmo e ovviamente con la nostra esperienza sia il Vermouth che il gin. E' un allargamento della gamma, dalla grappa che voi state cercando ormai da generazioni di farla diventare un prodotto sempre più glamour. Nella storia della nostra famiglia, ma similmente a quanto succedeva con Ballor, la volontà di sperimentare, noi ci sentiamo comunque ancora, nonostante le quattro generazioni alle spalle, degli alchimisti in un certo senso, perché? Perché cerchiamo sempre di innovare. L'elemento che ci caratterizza è quello di portare avanti prodotti che abbiano delle caratteristiche particolari. Ci siamo riusciti più volte, nel caso per esempio di Off Amarone Barrique, quindi la nascita di questo distillato che viene proprio dalla vinaccia del vino Amarone, ci ha permesso di superare e di arrivare dal punto di vista sensoriale a delle caratteristiche trasversali che rispondono alle esigenze di un modello di consumo non solo nazionale ma anche internazionale, attento all'esperienza e quindi che si orienta a chi vuole il bello e il buono senza compromessi, cioè a chi cerca un percorso di arricchimento. Ecco quindi l'idea di un lifestyle brand su cui noi siamo orientati con Off, proprio per poter esprimere un cammino, quindi un percorso che esce dall'ordinario e che va nella direzione di ricercare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo e l'esperienza sensoriale in particolare dà la possibilità, se pensiamo Off Amarone Barrique, di immergersi veramente in un mondo di sensazioni. Con un calice off sotto il naso, io dico sempre nel giro di dieci minuti con attenzione ti passa il mondo, un mondo di sensazioni molto diverse e che continuano ad evolvere e che vanno proprio a collegarsi con le esperienze vissute dalla persona e questa è la parte più bella e più appagante perché certe sensazioni, certi profumi rimandano ad esperienze di vita vissuta e che sono esperienze comunque molto positive che riportano a rivivere in un certo senso questi momenti che si ricollegano poi alla convivialità e a quello che è il vissuto e il bello del modello di consumo che sta alle spalle di Off.